Castiglione dell'Estiviere Castiglione è una delle città della Valpadana, una piccola città ma molto importante, che nel corso della sua storia ha avuto addirittura due associazioni artiere di ebanisti e marangoni, quindi il 600, il 700 e l'800 fino all'inizio del 900 ha avuto grandi ebanisti e grandi artefici. Martedì quindi sarà un evento davvero importante anche per la cittadinanza, per capire quanto sia importante questa arte. Sì, direi che con l'aiuto del professor Arturo Biondelli che ha studiato gli arredi, ha fatto molte ricerche d'archivio, credo che martedì si potrà dimostrare, mostrare soprattutto, perché useremo anche molte immagini, si potrà mostrare appunto questo grande patrimonio e cominciare a capire quali erano le botteghe, quali erano gli artefici, quali sono le grandi opere anche ancora presenti sul territorio. Io credo che sarà una serata veramente importante. L'evento si svolgerà martedì 18 ottobre alle ore 21 nella Chiesa dei Disciplini a Castiglione delle Stiviere. Grazie. 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 Grazie.